Siamo con Nicolo Sane, istruttore di secondo grado dell'Accademia Tennis Apuano, intanto ben trovato. Grazie, ciao a tutti. Allora, hai portato tantissimi ragazzi qui, una quindicina, poi arriveranno cinque anche per il tabellone principale. Questa scelta del lemon ball, tutti tanti ragazzi, come mai? Allora, intanto è un po' che siamo di tradizione qui a lemon ball e abbiamo avuto numerosi richieste di accompagnamento e quindi niente, ci siamo ritrovati con molti ragazzi nelle qualificazioni, per ora sopravvissuti ne abbiamo ancora cinque e ne aspettiamo cinque ancora nel tabellone, per ora diciamo che sta andando bene questa esperienza. Come si sono trovati i ragazzi qui alla lemon ball? Sono contenti? Sì, molto bene, sono contenti. Qualcuno era partito un po' titubante, magari l'allontananza dei genitori e tutto, però abbiamo visto che abbiamo chiesto ai ragazzi se il prossimo anno, insomma, cosa intendono fare. Ha detto che non ci pensano due volte a non pensare di venire, quindi li duco bene, dai. Senti, per quanto riguarda quelli che scenderanno, dovrebbe venire anche Marco Furlanetto che ha vinto l'anno scorso l'Under 10, insomma, da lui, anche se è molto piccolo, ci si aspetta comunque che possa far bene a prescindere da questo torneo, proprio perché è un ragazzo che sembra abbia il tennis proprio nel sangue, sa come dire, no? Sta facendo bene, sta avendo discreti successi, se non numerosi e, insomma, crediamo che possa anche quest'anno fare una buona prestazione. Al di là del risultato speriamo che, insomma, riesca a confermare quello che è capace di fare. Benissimo, grazie, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao.